Un evento quanto mai importante e tra l'altro emozionante sotto tutti i punti di vista sia dal punto di vista dell'immagine che gli artisti in questa manifestazione hanno voluto offrire e sia anche per le parole come le chiamo io. Un momento di condivisione, di rapporto spirituale tra tutto ciò che rappresenta l'arte e per arte la scriviamo intanto con la lettera maiuscola realmente perché a partecipare sono stati artisti di tutte le regioni italiane ma soprattutto di grande spessore, di grande bravura. Un momento di intima condivisione e di amicizia anche perché io sono sempre dell'idea che non voglio ripetermi ma lo dico spesso che l'incontro con l'altro porta tanta ricchezza all'interno del nostro cuore.